Il teletrasporto è riuscito. La squadra si trova al complesso di Omega. Omega ha già aperto il portale. Non c'è molto tempo. Prenderanno Zikov da un momento all'altro. Squadra, entrate. Zikov è la chiave per fermare il rinnegato. Omega non deve prenderlo. Attenzione, massiccia attività ostile all'efforto. E sta giù. Attenzione, massiccia attività ostile all'efforto. Attenzione, massiccia attività ostile all'efforto. Abilità ostile all'efforto. Quella è meritata. Abilità ostile all'efforto. Fuori dai piedi. Attenzione, massiccia attività ostile all'efforto. Stato di avanti. Non sono stanca. Stato di avanti. Versaglio ne... Attenzione, massiccia attività ostile all'efforto. Indico il bersaglio con i missili cruzi. Non ho scrupoli. Non ho scrupoli. Nessuno. In piedi. Non perder tempo. Attenzione, massiccia attività ostile all'efforto. Uccisione. Granata lanciata. No. Mi serve aiuto. Va meglio. Grazie dell'aiuto. Grazie dell'aiuto. Grazie dell'aiuto. Tiro una granata. Tiro una granata. Un'altra giunta in un'assata. Carpe in chiede. Carpe in chiede. Carpe in chiede. Eh? La salta è se non risparmia nessuno. Il cielo. Cieli sono scombri se vi serve un'estrazione. Attenzione… Dritto all'ubitorio. Oggi sono bella carica. Versaglio eliminato. Occhio, arriva una bomba scimmia. Non è niente. Azzurro. Senta bene. Mi serve aiuto qui. Meno male che ci sei tu. Ascendo la macchina mortale. Versaglio eliminato. Minaccia non morta neutralizzata. Lancia fiamme in campo. Risparmio proiettili per giorni peggiori. Prendete quella macchina mortale. RAPTUR-1 tornerà. Resistete! Voi. Attivazione esca. Ha funzionato. Non sto neanche sudando. Volete una nuova corazza? I tormentatori sono composti interamente di cristallo, organi inclusi. Non chiedetemi nient'altro. Confermato. Confermato. Non morto si l'eliminato. Non credo che neanche due o tre teste siano meglio di una. Serve aiuto. Mi serviva proprio. Non potete farcela. Prendete quella corazza. Indico una parete con armi. Non inquiettivo. Non impiegazione. Non mi serviva. Non impiegazione. Non impiegazione diior. Guardo! Spazio aereo libero, ora l'estrazione è possibile. Tiro una, Volocop! Vi ammazzerò tutti se devo. Uccisioni mutile confermate. Un cadavere ostile in me. Andate all'inferno, tutti quanti! Esca in campo. Bomba incendiaria partita! Più uccisioni con bomba incendiaria. All'istante. Nemico abbattuto. Fatevi avanti, non sono stanchi. C4! Ricciallo di torno. Trazione non più possibile. Ti avviso quando torna disponibile. Sono a terra! Mi ha preferito! Avanzo con il cannone potabile. Uccisioni mutile confermate. Sei lineato. Macchina mortale pronta. Unizio scaldato. Versaglio eliminato. Versaglio eliminato. Deposeremo dopo. Metteteli in fila, io li stendo. Accendo la macchina mortale. All'istante. Serite curate. Nemico neutralizzato. Uso una bomba incendiaria. Se volete ce n'è ancora. Uso la macchina mortale. Conti d'ordine. E tra i miei proiettili per giorni peggiori. Tiro un meta. Un attimo intermizzo. Bomba incendia in capo. La macchina mortale. Esca attiva. Oggi sono bella carica Poco d'artiglieria sul settore indicato Ti senti meglio? Ne avevo abbastanza di te È il nostro prossimo obiettivo Una sequenza d'accensione complessa Ma me l'aspettavo Ciarpare sovietico Non ho scrupoli, nessuno Ma me l'aspettavo Grazie per la visione!